Nel momento di crisi l'autovelox Auto Autovelox Autovelox Piano Autovelox 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 Attenzione autovelox C'ho i raci infrarossi Queste sono le famose lenti Le lenti queste qua che si rimettevano un tempo Se passano questa linea a più Di 18 km orari E autovelox Scatta l'occhio mio D'altronde è regolare come cosa Perché è dichiarata Cioè Autovelox Autovelox Mastovelox Circolare Circolare No Autovelox Autovelox Piani Piani Perché state invadendo la carreggiata e la mezzeria Autovelox 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 Prendila da prendila Prendila Secondo me sta qua Murta 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 Quella è murtata Adesso tutti quanti Ah ma tu sei dei briachi Sì siamo fatti una birra Pensa che ubriacatezza Che ubriacatura Siamo ubriacati di vita Viva la vita Adesso stai Autovelox Piano 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 Bene vada Abbiamo salvato un sacco di centri Auto Piano Piano Velox Velox Vada signora va Circolare Circolare Piano 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 Mastro 42 anni Solo l'anagrafe Non abbiano il corpo e tanta voglia di vivere Viva la vita Viva la vita Autovelox 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 Jajajajajajaj